Sembra proprio che le api abbiano scelto il centro abitato di Molfetta per costruire le loro nuove case. Dopo i due alveari scoperti alla 167 nell'ospedale civile Don Tonino Bello di Molfetta, un terzo alveare è stato segnalato in pieno centro, via Federico Campanella, sul parazzo della BNL. Come sempre ad intervenire i volontari del WWF di Molfetta, coordinati da Pasquale Salvemini e i docenti dell'Istituto di Agraria dell'Università di Bari. Con la solita tecnica del fumo le api sono state fatte traslocare in un altro alveare. Portate via ai presenti non è rimasto altro da fare che assaggiare sul posto l'ottimo miele prodotto dalle api. Una vera delizia per i palati più fini che non può che rendere felici tutti quanti gli apprezzatori del buon gusto.